Napoli risponde all'appello di Papa Francesco per la giornata di preghiera e digiuno in nome della pace in Siria e in tutto il mondo. Lo fa con una solenne liturgia eucaristica presieduta nella cattedrale di Napoli dall'arcivescovo titolare della diocesi, il cardinale Crescenzio Sepe. Un momento di raccoglimento per consacrare una giornata a Dio nella ricerca della pace e della giustizia tra i popoli, onde allontanare le sirene di conflitto nei luoghi del Medio Oriente che hanno visto sorgere il cristianesimo. Alla messa hanno partecipato non solo il clero e i fedeli cattolici ma anche esponenti di diverse confessioni religiose appartenenti all'orbe cristiano e anche ad altre fedi. All'esterno del Duomo l'appello del Sommo Pontefice è stato raccolto da un gruppo di pacifisti che ha voluto manifestare il proprio dissenso alla guerra unendosi in maniera laica ai fedeli raccolti in preghiera. Veramente non ne possiamo più di queste scuse e di queste guerre sanguinosissime. Le armi italiane sono già lì e già producono vittime e già ne hanno prodotte. Se veramente siamo contro la guerra dobbiamo smettere di produrre armi e l'Italia invece foraggia armi a destra e manca e è in Siria anche e ce ne sono tantissime.